ciao come stai? spero tu stia bene io sono chi 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 oggi ho deciso di leggare un video smr diverso in realtà ne avevo programmato un altro che probabilmente comunque farò uscire dopo lo stavo per per iniziare però poi mi sono detta non è quello che sento di fare adesso e volevo tanto vale dirlo volevo fare un inaudible con il sonno dei guanti e qualche hand movement però era qualcosa che avevo programmato prima ma non che sentivo di fare ora oggi c'è una giornata di di sole però non calda c'è un po' di prezza ho deciso di tenere le finestre aperte cosa che solitamente non faccio perché temo i rumori però in questo caso non ho potuto fare a meno dato il cinquettio degli uccelli che è bellissimo e molto rilassante quindi ho pensato di fare un video smr dove voi potete vivere quello che io sto vivendo in questo momento il mio presente quello che mi circonda farlo vivere anche a voi come se voi foste qui insieme a me oggi mi sentivo più solare del solito sapete la mia morte solitamente è un po' più più per la pioggia più per le giornate cube mi definirei più una persona del genere però comunque essendo un po' lunatica lo ammetto a volte mi piace definirmi in modo diverso anzi non definirmi affatto io sono quella che sono diciamo aggiornata a mood non ho acceso luci artificiali ho soltanto con me la luce del sole come potete vedere infatti sono proprio qui davanti alla finestra volevo fare un smr molto naturale riuscite a sentire il suono del vento? è un vento piacevole non è troppo forte per oggi è presente infatti la tenda della finestra appunto di fronte a me come dicevo prima si muove piano piano oggi oggi non indosso trucco o meglio essere sincera qualcosa si ho un po' di lucido e un po' di fondotinta giusto perchè avevo un po' di occhiaie ce li ho sempre quindi preferisco coprirle a mio fidanzato piacciono le occhiaie e non è l'unico e non è l'unico a molte persone piacciono e anzi io ho notato che proprio in questo periodo sembrano andare di moda io ho un rapporto amore-odio verso le mie occhiaie perchè da una parte sembrano hanno quell'effetto diciamo dark però anche un po' un effetto non sano io ce l'ho da quando sono piccola quindi è un po' una cosa genetica penso e anche perchè sono anemica molto anemica e quindi anche per quello oggi ho deciso di coprirle oggi ho deciso di vestirmi così un vestitino che vi che vi voglio far vedere è un vestitino verde acqua che mi ha comprato mia sorella la terra nuova e poi ha deciso di mettere questa camicia colorata con i fiori pensavo potesse starci bene con i fiori che che Oggi, mentre mi preparavo per girare questo video, ho pensato varie cose, tra l'altro Una cosa che faccio spesso è questo, oppure fare tapping sulle clavicole, perché mi rilassa, mi tranquillizza, penso sia una cosa dei soggetti ansiosi, comunque E anche perché in generale faccio tanto tapping sulle cose In generale l'ho sempre fatto, non lo so, mi viene normale prendere qualcosa anche sul cellulare e fare un po' di tapping Poi ora che ormai sono nel mondo ASMR, nel senso che non solo lo guardo, ma lo faccio E mi viene ancora più normale, più istintivo, spontaneo farlo Quindi una delle cose di abitudini che poi si prende quando fai ASMR, forse anche quello, non so se altri ASMR artist E mi capiscono, nel senso che capita pure a loro Comunque, dicevo, mentre mi stavo sistemando oggi, questa mattina, per fare il video E ho pensato a quando fossero belli i sensi Ovviamente intendo vista, udito, sapore, infatto, tatto, tutte queste di qua, giusto? E' qualcosa che noi abbiamo Noi ci alziamo E li attiviamo Cioè non che non li abbiamo quando dormiamo, ma Appunto stiamo dormendo Non appena ci alziamo E' la prima cosa che Sentiamo Quindi che avvertiamo Noi abbiamo i sensi E E questo è bellissimo Avere i sensi Un cuore che batte Un cervello che pensa Oggi Ho proprio pensato Mentre che mi truccavo e ascoltavo la musica Sarà anche l'effetto della musica che mi fa Diventare più saggio Comunque mi fa riflettere Sulla vita Sulla mia esistenza Ho pensato Ho pensato A quanto Si appella La consapevolezza Che io In questo presente Sia Sia viva Concreta Che io possa toccarmi E' qualcosa che Non si può far intendere Non lo so Oggi ho pensato Proprio a questo Ho avuto la consapevolezza Che io sia viva Spesso Quando Ci facciamo prendere Dalla 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 euforia Delle altre cose Dallo stress del lavoro Da qualsiasi cosa abbiamo in mente Noi pensiamo Noi pensiamo a quelle cose Non pensiamo O meglio Non ci focalizziamo Sui sensi Ci focalizziamo soltanto su I pensieri E le altre cose I sensi Li diamo per scontati E' normale Non pensarci Ogni singolo giorno Ma La consapevolezza Che Abbiamo un presente Tangibile Anziché pensare A un futuro Che non si sa A un passato Che è andato E' strano Non capisco Perché Non ci si focalizza Veramente su Ora Su questo momento Esatto E' una cosa che Facciamo tutti No? Noi tutti Non lo so perché Forse In un certo senso E' più facile Sentirsi L'ha occupata la mente Sul futuro Perché E' qualcosa Che noi pensiamo Di gestire meglio Ma che in realtà E' tutto Il contrario Per esempio Parlando Per me Quando penso Quando penso A dei progetti Che ho Io agisco In base a quei progetti E spesso E spesso Non faccio Convinta Che tantissime Tantissime altre persone Facciano così Come faccio io Non riesco Non riesco a capirmi Però Perché 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 Facciamo così E allora Oggi Questa mattina Ho deciso Di Volere avere Più consapevolezza Del mio Ora E So che Non sarà facile E Fare Pensare Sempre in questo modo Ma Voglio Sforzarmi Nel farlo Stavo controllando Se stavo registrando È un incubo Quando scopri Che non sta registrando E che Parla da vuoto In un certo senso È già Un po' Parlare a vuoto Nel senso Se ci fate caso Io sto facendo Un monologo Quando facciamo I video Facciamo monologi Stiamo con noi stessi Per questo Mi aiuto A fare l'SMR Perché Metto i miei pensieri Via Quindi non stanno Nella mia testa Ma Li putto Fuori Sia pensieri Positivi Che pensieri Negativi Non devono Soltanto essere I pensieri Negativi Che devi Buttare fuori E allora E allora Sì Però comunque Anche quando si fanno Questi monologhi Si sa che Dall'altra parte Comunque c'è Qualcuno Che ti sta sentendo Che magari Sta pensando O magari Lo sto aiutando Sia pensieri Sia pensieri Sia pensieri Sia pensieri Sia pensieri Sia pensieri ho finito qualche giorno fa questo manga ten count il genere penso sia uno yaoi sì penso di sì o un pl non saprei comunque per chi non lo sappia comunque ho già postato alcuni alcuni video ho alcune storie è un genere di amore diciamo per quanto riguarda boys love, già la parola stessa lo dice amore fra ragazzi e mi piacciono molto le storie così e questo parla di vi leggo la trama shirotani un segretario che soffre di misofobia ovvero la paura di stare in contatto con lo sporco toccare qualcosa che è sporco quindi diciamo la fobia della sporcizia assumi i capi dopo lì quindi shirotani un segretario che soffre di misofobia dopo l'incontro fortuito con lo psicologo curose decide di iniziare un percorso per vincere la propria patologia durante la terapia che prevede il compimento di dieci azioni per lui indollerabili shirotani si accorge pian piano di essere attratto dal suo terapista uno psicologo scostante un segretario misofobo e una delicata terapia d'amore ecco perché ten count perché appunto lo psicologo grose fa scrivere questi dieci punti che per shirotani sono intollerabili e dice che se lui riuscirà a compirli a realizzarli tutti sarà guarito dalla sua misofobia ho letto ancora soltanto un capitolo però un capitolo un volume però già sapevo che mi poteva piacere perché avevo letto qualcosa ho visto qualche recensione sembrava il mio genere e mi sto piacendo quindi per qualsiasi spettatore o spettatrice a cui piacciono questo genere di manga ocum e in generale i generi PL le iaoi ve la consiglio vivamente in realtà avrei proprio un video da fare a parte perché ne ho visti e letti non parecchi ma un paio un bel po' quindi se c'è qualcuno che è interessato o interessata posso consigliarvene alcuni magari giusto come si fa fra due amici non perché voglia insegnarvi o dire o non lo so ostentarvi la mia conoscenza semplicemente quello che mi è piaciuto vorrei condividerlo con voi mi dispiace sempre quando compro quando ho solo un volume di un manga perché quando mi piace devo subito aspettare per l'altro l'ideale sarebbe avere tutta la collezione una volta però magari a volte non lo si fa per questioni economiche magari non puoi non hai i soldi per comprare di tutta la collezione insieme però quella voglia irrefrenabile di leggere subito il secondo volume è stervante un pochino quando aspetti un pacco che hai ordinato su internet però allo stesso tempo quella sorta di ansia se così la possiamo chiamare è piacevole perché perché ti fa desiderare più quella determinata cosa anziché averla tutta subito sono due gioie completamente diverse avere tutto in quel momento ovviamente è qualcosa che ti appaga ti piace però attenderla e ottenerla penso sia un grandino in su ti ti piacere diciamo ti piace di più perlomeno per me è così per il resto spero ovviamente di pubblicare più spesso nel fatto che per adesso ho una routine diversa mi sono trasferita già da un po' da qualche mese e vi ricordate quando ve l'avevo accennato che mi sarei trasferita ecco l'ho fatto e capirete bene che quando ci si trasferisce appunto è tutto un po' in suboglio le routine cambiano e quindi bisogna riorganizzarsi resettare quello che facevi per rielaborare qualcosa di nuovo e che funzioni perché spesso ci sono routine che non vanno sono troppo estenuanti o troppo lente quindi bisogna adattarsi ai nuovi ambienti ai nuovi spazi e quindi anche per quello mi viene difficile essere costante col canale sembrano scuse perché per una scusa e un'altra non non sono mai costante come vorrei ma non vi preoccupate un modo prima o poi lo trovo per dedicarvi più tempo perché come avrete ormai capito l'SMR è qualcosa che faccio per voi e anche per me è come staccare la spina in quel momento che filmo da tutto a volte non mi va di filmare magari lo faccio soltanto per mantenere il canale lo ammetto ma a volte è proprio tutto ciò di cui ho bisogno ora è 23 minuti che sto filmando penso che concluderò i miei video così fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace e spero vi abbia tenuto compagnia oggi che vi abbia rilassato che io sia stata utile in qualsiasi modo vi voglio bene ci vediamo nel prossimo video grazie Grazie.